Ciao a tutti, ragazzi e ragazze, benvenuti in questo massimo video! Io sono Giada e questo è il mio canale, se non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi e mettete like! Ok, oggi sono super contenta, perché questo sarà il mio primo Vlogmas 2021! Per chi non sa cosa sono i Vlogmas, sono i video che si fanno a partire da dicembre fino al 25 dicembre, che sarà il giorno di Natale, nell'attesa dell'arrivo del Natale. E li ho fatti anche l'anno scorso, se non li avete visti e li volete vedere vi lascio il link nelle info. E li farò anche quest'anno, non li farò tutti i giorni, perché a volte non c'è proprio niente da vedere, però cercherò di farne il più possibile. E questo qua sarà il primo! Allora, oggi è il 28 novembre ed è una domenica e oggi abbiamo deciso di fare l'albero di Natale! Uh, non vedo l'ora! E quindi non perdiamocivi in chiacchiere e iniziamo subito! Ok, mi sono sposata in sala perché è qua che faremo l'albero. E qua ci sono tutti gli scasoloni con le decorazioni. Ok, allora qua abbiamo l'albero e adesso lo tiriamo fuori, ci sono tutti i pezzi. Ok, amici! Ho messo quello di Natale Wu e guardate oggi che punto è... No, no, siamo circa a metà e niente, siamo a buon punto però, devo dire. Adesso continuiamo. Ok, guardate l'albero e adesso metteremo le luci. Ok, amici, eccomi qua! Oggi ormai il giorno dopo perché alla fine ieri abbiamo lasciato l'albero a metà e lo stiamo per continuare oggi e quindi andiamo. Abbiamo lasciato l'albero così e dobbiamo mettere le luci e in 3, 2, 1 si illuminerà! Tutto bello illuminato! Adesso ci manca solo da mettere le palline. Qua c'è questa scatola che contiene tutte le palline di Natale. Andiamo a aprire... Guardate, questa è la mia ghirlanda stupenda che poi metteremo sulla porta. Qua ci sono i vestoni e ecco qua ci sono tutte le palline. Allora, qua ci sono quelle del mio alberello. Il prossimo video sarà proprio quello in cui decorrerò la mia camera, quindi non perdetevelo. E poi, guardate qua, ci sono tutte le palline. Ve le faccio vedere... Allora, qua ci sono tutte quelle preziose, diciamo, di vetro, come queste. Poi qua ci sono tutte le altre, sono tantissime. Oh, guardate questa! Quella con il mio nome. I fiocchi di neve. La palla da discoteca, poi ce ne sono tante bianche, argento e rosse, perché infatti anche l'anno scorso era così, il tema dell'albero è bianco-argento e poi c'è qualche pallina rossa. E niente, adesso non vedo l'ora di andarle a mettere tutte sull'albero! Ok, iniziamo a metterle palline e ovviamente metterò questa con il mio nome! Ciao! 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 Grazie a tutti. Abbiamo finito l'albero. Adesso lo vedrete già un po' alle mie spalle, ma adesso voglio farlo vedere meglio. E' uscito molto bene. E niente, sono molto contenta del risultato. Adesso vi mostro com'è uscito. Eccolo qua. Così è acceso. Guardate, eccolo qui. Acceso! Oh! 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 Ok, il video è finito, spero che vi sia piaciuto, se è così mi raccomando mettete like, iscrivetevi al canale e non perdetevi tutti i miei prossimi video, un bacione, un abbraccio, ciao!